Chi sarà Lila nell'Amica Geniale 4? A quanto pare la scelta è ricaduta su Irene Maiorino. Scopri i dettagli a seguire nell'articolo Nell'Amica Geniale 4 Lila sarà Irene Maiorino, dopo mesi di attesa c'è finalmente un nome per l'attrice che interpreterà questo personaggio. L'indiscrezione è arrivata dall'azienda che fornisce le parrucche alla produzione della fiction. Ma cosa sappiamo di lei? Leggi anche, esterno notte serie tv Aldo Moro stasera prima puntata, quando inizia? Orario, trama, canale, cast, quante puntate e l'Amica Geniale 4? Irene Maiorino Saralila l'azienda che rifornisce la fiction delle parrucche di scena ha pubblicato una foto dei tupè coperti da un sacchetto, questo è bastato per scatenare i fan dell'Amica Geniale 4. Sui sacchetti, inoltre, c'è il nome delle due protagoniste e su ognuno di esse il tag dell'attrice che le interpreterà, Lila, infatti, sarà Irene Maiorino. Il nome di quest'ultima era già circolato in rete da diverso tempo, ma solamente oggi si può considerare ufficiale. Chi è l'attrice Irene Maiorino sarà quindi nel cast dell'Amica Geniale 4, ma dove l'abbiamo già vista? Questa attrice è uno dei volti noti delle fiction Rai, è apparsa in, I Bastardi di Pizzo Falcone Sirene e il commissario Ricciardi il tredicesimo apostolo nella sua carriera. Inoltre, dobbiamo considerare anche il ruolo di Alessandra Mussolini nella serie televisiva targata Sky 1994. Chi sarà Lenù? Per Lenù nessun dubbio, la versione adulta della ragazzina sarà infatti interpretata dalla nota Alvar Orbacer. L'attrice, inoltre, è anche la voce narrante della serie, fin dalla prima stagione. Per il pubblico era pressoché scontato che proprio lei interpretasse Elena nell'Amica Geniale 4. Seguici su Instagram cliccando qui.